Timori per la riapertura dei mercati dopo lunedì in nero che ieri ha bruciato nelle borse europee 254 miliardi. Piazza Fari ha ceduto quasi il 5% da record lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Il cancelliere Merkel definisce l'Italia fragile come la Grecia e Draghi lancia l'allarme e l'aiuto della BCE non è scontato. E da oggi la manovra in discussione nell'aula del Senato. Il governo è tentato dal porre la questione di fiducia mentre il presidente Giorgio Napolitano chiede misure efficaci e credibili. Mentre il capo dello Stato rivolge anche un appello alle parti politiche affinché cessino pregiudiziali e incomprensioni. Ed è anche la giornata, questo è il titolo di sport, no diciamo che oggi ci siamo un po' sbagliati. Sullo sport stasera vicendo a Firenze con la Slovenia l'Italia può ottenere la qualificazione all'europeo del 2012 con due turni di anticipo. Il CT Prandelli si affida ancora alla coppia d'attacco Rossi-Cassano. Da venerdì torna la Serie A e dopo l'accordo Ponte firmato ieri tra Lega Associazione e Calciatori si parte con Milan-Lazio. Allora, sono le 7.33, comunque una buona giornata a tutti voi telespettatori dalla redazione della 7. Forse questi sono gli effetti dello sciopero generale che oggi interesserà moltissimi lavoratori. Intanto noi però cominciamo parlando dei mercati perché in realtà è poi da lì che inizia tutto, dalla situazione delle borse e dei mercati. Ieri, lo sapete, è andata davvero malissimo. Anche oggi le previsioni non sono particolarmente buone. Se vogliamo guardare quello che sta succedendo sulle borse asiatiche, Tokyo ha già perso a metà seduta il meno 2,11% in più. Moody's, una delle agenzie di rating, ha fatto sapere che noi siamo sotto osservazione e che è previsto un declassamento. Insomma, davvero premesse certamente non buone. L'unica buona notizia, se così vogliamo vederla, arriva niente meno che dall'Australia, dove è in visita il Presidente della Commissione Europea, Barroso, che ha appena rilasciato un'intervista a una televisione australiana dicendo che lui è assolutamente convinto che comunque l'euro uscirà rafforzato da questa crisi e che in qualche modo tutta Eurolandia risentirà poi positivamente di quello che sta succedendo. Intanto però vediamo la situazione dei mercati con Simone Costa. Le premesse non sono certo delle migliori, ma dopo un lunedì da dimenticare, la borsa riapre a Milano membre di un crollo forse inaspettato, ma certo preoccupante. Un calo nemmeno attribuibile agli Stati Uniti, con Wall Street che ieri osservava il suo usual stop per il Labor Day, una sorta di primo maggio americano. Ecco allora che i riflettori si accendono sull'Europa e si torna a parlare dell'incubo o recessione. Il risultato è che Piazza Affari c'è del 4,8%, bruciando 16,3 miliardi di euro. Un risultato in linea con quanto succede nelle altre borse europee, dove si perdono 254 miliardi con francoforte maglia nera del vecchio continente, probabilmente a causa della nuova sconfitta elettorale, stavolta in un collegio regionale rimediata da Angela Merkel. Il cancelliere tedesco ieri si era lasciato scappare che Italia e Grecia sono in una situazione estremamente fragile e il paragone con lo Stato ellenico in crisi nera da tempo preoccupa non poco i mercati. In questo quadro da Parigi Mario Draghi avverte che gli acquisti di sostegno e titoli di Stato non sono affatto scontati mentre Trichet invoca un'altra governance economica europea, accusando quella attuale di non essere in grado di gestire la crisi. Una crisi che si misura anche con lo spread rischiometro del debito pubblico, tornato a 373 punti a un passo dalla quota record di 389 che spinse il governo a rivedere la manovra. Tra poco avremo le risposte che cerchiamo, quelle che per tutta la giornata di ieri hanno chiesto un gruppo di sindacalisti e militanti dei centri sociali che hanno di fatto occupato Piazza Affari, accampandosi per tutta la notte. Oggi pomeriggio comunque la manovra arriva al Senato. Intanto a mezzogiorno c'è una importante riunione della Capigruppo per decidere anche la caledalizzazione perché probabilmente al voto si arriverà già entro mercoledì, tant'è che il PDL ha fatto sapere che loro non presenteranno altri emendamenti. C'è però da tenere presente l'appello, l'accorato appello, così lo possiamo definire, ieri del Presidente della Repubblica a fare una manovra equa. Manuela Ferri. Nessuno può sottovalutare il segnale allarmante rappresentato dall'odierna impennata del differenziale tra le quotazioni dei titoli del debito pubblico italiano e quelli tedeschi. È un segnale di persistente difficoltà a recuperare fiducia come è indispensabile e urgente. Una grande preoccupazione traspare dalle parole del Capo dello Stato allarmato dal lunedì nero della Borsa. Giorgio Napolitano, che ha seguito passo dopo passo il leader della manovra, lancia un forte monito. Si è ancora in tempo per introdurre in Senato, nella legge di conversione del decreto del 13 agosto, misure capaci di rafforzarne l'efficacia e la credibilità. Faccio appello a tutte le parti politiche perché sforzi rivolti a questo fine non vengano bloccati da incomprensioni e da pregiudiziali insostenibili. Sulla necessità di fare in fretta concordano maggioranza e opposizione, ad eccezione dell'Italia dei Valori, che chiede di non strozzare il dibattito. In Senato si punta a dare il via libera entro mercoledì, così da trasferire il testo alla Camera, dove si cercherà di seguire lo stesso iter veloce. Il PDL assicura che non presenterà emendamenti in aula. Il PD garantisce che non ci sarà ostruzionismo, ma chiede di eliminare il contestato articolo 8 sul lavoro, che introduce maggiore flessibilità con la possibilità di licenziare e di cancellare i tagli agli enti locali. La fiducia però non sarebbe ancora archiviata, a causa delle tensioni nella maggioranza alla ricerca di entrate certe. Non ha sortito alcun effetto il faccia a faccia a sorpresa di ieri pomeriggio tra Bossi e Tremonti in via Bellerio, con una telefonata in diretta di Berlusconi. Nonostante il pressing serrato, il senatore ha ribadito il suo no a qualsiasi intervento sulle pensioni. Il testo è quello uscito dalla Commissione, ha rincarato Maroni. Mi pare che la questione sia chiusa. Rimane sul tavolo l'aumento dell'IVA. In caso di emergenza, il Presidente del Consiglio aveva annunciato di essere pronto a far scattare l'incremento di uno o due punti percentuali con un proprio provvedimento. Manuela Ferri ci parlava nel suo servizio dell'articolo 8. È quello che di fatto ha acceso la miccia per lo sciopero generale di oggi, indetto dalla CGL. Ci saranno manifestazioni e comizi in almeno un centinaio di città. Ovviamente il più importante è Roma ed è lì che parlerà il leader della CGL, Susanna Camusso. Sapete che Cisle e Will non aderiscono, ma in realtà non del tutto, perché il settore metallo-meccanico di Cisle e Will invece aderisce a questo sciopero. Paolo Luzzi. In piazza, ma ancora una volta da soli, Cisle e Will si sfilano dallo sciopero nazionale, indetto quest'oggi dalla CGL contro la manovra economica del governo. Al primo punto della manifestazione restano le modifiche all'articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori, che porterebbero, se approvate, le aziende a poter licenziare senza l'obbligo del reintegro. Cisle e Will, che accusano la CGL di aver abbandonato il tavolo unitario, contestano la Camusso anche nel merito dello sciopero, in quanto, dicono, nessun sindacato serio potrebbe trattare il licenziamento dei lavoratori. La nuova normativa, la difesa, permetterà invece di tutelare i singoli lavoratori nelle trattative territoriali in deroga al contratto nazionale nell'apertura delle nuove attività. Inoltre, per il segretario della Cisle Bonanni, con le borse al tracolo, lo sciopero odierno va solo a danno dell'azienda Giancrisi e non della politica, che dovrebbe per prima dare il buon esempio. Dell'opposizione di governo solo Casini non partecipa alla manifestazione della CGL, daranno invece sostegno il PD di Berzani, che accusa la maggioranza di perdersi in inutili questioni di principio, non portando all'articolo 8 nessun apporto concreto ai 45 miliardi necessari alla manovra. Vendola è di Pietro, secondo cui il lavoratore rischia di diventare addirittura un vassallo dell'azienda, che potranno sfogliare la margherita per decidere chi potrà o meno conservare lo stipendio. E veniamo alla cronaca. Allora, i magistrati di Napoli si sarebbero accordati con gli avvocati di Berlusconi per sentire il Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi, manca però ancora la data. Stiamo parlando del presunto ricatto che appunto avrebbe subito Silvio Berlusconi da parte di Lavitola e Tarantini. Intanto la Procura di Bari, sempre sulla vicenda delle escort, ha chiuso, si appresta a chiudere l'inchiesta proprio sulla vicenda delle escort a Palazzo Grazioli. Rossella Matera. Da ogni foglio dell'informativa della Digos di Napoli spuntano cifre a 5-0, un giro incontrollato di denaro che ruota intorno all'inchiesta dei magistrati napoletani sulla P4. Siamo a pagina 23, l'ex direttore dell'Avanti, Lavitola, parla con un collaboratore, dice l'altro giorno erano 200, non erano 100, non erano 300, quello che ha ritirato Raffael. Mi sono sbagliato, ora bisogna capire questi 200, che fini abbiano fatto. Poi si legge, è sparito tutto, 300.000 euro in un mese. I poliziotti sintetizzano, Lavitola fa riferimento a centinaia di migliaia di euro che distribuisce a non meglio precisate persone. Su quest'ultimo passaggio si concentrano le indagini della presunta estorsione ai danni del Premier. Il denaro che Lavitola fa girare sarebbe proprio quello che Berlusconi gli avrebbe dato per pagare il silenzio di Tarantini al processo di Bari sulle escort portate a Palazzo Grazioli. Pagamenti occulti in violazione della normativa antiriciclaggio, scrive il GIP di Napoli nell'ordinanza che ha portato in carcere Giampaolo Tarantini e la moglie, ora ai domiciliari. Versamenti eseguiti dalla segretaria storica del Presidente del Consiglio, Marinella Bramilla, e che non troverebbero altra spiegazione se non quella legata al rischio di nuove rivelazioni di Tarantini che pregiudicherebbero ulteriormente l'immagine pubblica del Premier. Ora Berlusconi dovrà essere ascoltato come persona informata sui fatti dai PM napoletani e entro dieci giorni il limite è stabilito dalla Procura partenopea. C'è un'altra vicenda che imbarazza la politica, la vicenda Penati. Ebbene, il provvedimento era in qualche modo annunciato, comunque ieri dopo una riunione durata circa tre ore la Commissione dei Garanti del PD, quella preseduta da Luigi Berlinguer, ha sospeso per l'appunto Filippo Penati dal partito. Non è stato espulso in attesa che la vicenda giudiziaria si chiarisca, vicenda che però in realtà si arricchisce ogni giorno di nuovi particolari. Sospeso dal Partito Democratico fino a che non arriverà la sentenza positiva della magistratura. Questa è la decisione della Commissione di Garanzia del PD nei confronti di Filippo Penati, l'ex presidente della provincia di Milano coinvolto nell'inchiesta della Procura di Monza sulle presunte tangenti per l'ex area Falc di Sesto San Giovanni. Penati in una nota ha nuovamente ribadito la sua estranetà ai fatti contestati, ricordando di essersi già autosospeso. Dall'inchiesta dei PM di Monza emergono però nuovi documenti, buste ricevute che il grande accusatore di Penati, Piero Di Caterina, titolare dell'impresa di trasporti Caronte, segnava meticolosamente. Secondo la versione di Di Caterina, quei pizzini in codice raccontano sei anni di tangenti, più o meno dal 1997 al 2003, per ungere il sistema Sesto e finanziare il partito a Milano. Documenti in codice che la Procura di Monza ha messo negli atti dell'inchiesta. Ricevuto da DG è scritto a mano su un foglio di carta, la data è il 26 giugno del 2002, 7500 euro la cifra è a lato, primo, VG e AP. Primo sarebbe l'uomo più importante del gruppo, VG il secondo, le iniziali corrispondono a quelle di Giordano Vimercati, ex braccio destro di Penati. Per AP le iniziali sono le stesse di Antonino Princiotta, ex segretario generale della provincia di Milano, anche lui indagato. E a Roma invece ci sarebbero già le prime iscrizioni nel registro degli indagati da parte della Procura per la vicenda dei neonati contagiati dalla tubercolosi al policlinico Gemelli. A rischiare l'accusa di epidemia colposa sarebbero due dirigenti dell'ospedale che secondo i magistrati non avrebbero adottato le cautele previste dalla legge per evitare il contagio. Il numero dei bimbi colpiti dal batterio finora è di 122, ma si teme che sia destinato a salire ancora. Adesso ci trasferiamo in Libia. È stata una notte ricca di avvenimenti. Innanzitutto pare che sia stato raggiunto un accordo fra i lealisti, i Gheddafiani e i ribelli per entrare a Bani Walid, la città che si trova a sud-est di Tripoli. Era una delle due roccaforte rimaste in mano ai Gheddafiani senza sparare. Ma l'altra notizia davvero clamorosa è che un convoglio formato da almeno 250 fra mezzi militari ed altro sarebbe in fuga verso il Niger e lì dal Niger al Burkina Faso. Potrebbe anche esserci Gheddafi, anche se stanotte il portavoce di Gheddafi è tornato a farsi sentire e a dire che il raiz sta benissimo. Ad Alberto Baldini. Muammar Gheddafi è in Libia al sicuro in un luogo irraggiungibile. L'ennesimo annuncio sulla sorte del colonnello arriva dal portavoce del governo di Tripoli intervistato dalla TV siriana. Anche Saif al-Islam, il figlio erede designato del raiz, sarebbe ancora nel paese spostandosi da una località all'altra per evitare la cattura. Ma proprio nelle ultime ore un imponente convoglio militare ha attraversato la frontiera desertica a sud del paese entrando in Niger. Secondo fonti francesi, Gheddafi potrebbe unirsi al gruppo per poi puntare verso il Burkina Faso che gli ha offerto asilo. Una versione che punta a smentire le voci che darebbero Gheddafi ai suoi fedelissimi a Bani Walid, la roccaforte dei lealisti, assediata dalle truppe del Consiglio Nazionale di Transizione, continua a resistere ma dopo il fallimento del negoziato sulla resa, stamane gli insorti hanno annunciato che è stato raggiunto un accordo per entrare senza combattimenti. Ieri il segretario generale della Nato Rasmussen ha confermato che l'intervento occidentale non è concluso, non c'è ancora una data, ha detto, le nostre operazioni per proteggere i civili andranno avanti. La crisi libica però continua a creare polemica in Gran Bretagna. Il premier David Cameron ha annunciato che sarà aperta un'inchiesta sui rapporti tra i servizi segreti britannici e quelli del regime di Gheddafi. Secondo alcuni documenti ritrovati a Tripoli, negli ultimi anni l'intelligence libica avrebbe collaborato attivamente con Londra e gli Stati Uniti in una serie di operazioni sotto copertura per trasferire all'estero sospetti terroristi islamici. Sono le 7.47, Ugo Francicanava. Buongiorno a tutti. Si gioca, si gioca, si gioca questa sera per quello che riguarda la nazionale di Cesare Prandelli a Firenze. Nel suo stadio Prandelli può centrare la qualificazione agli europei del 2012 se riuscirà a battere la Slovenia. Vediamo l'atmosfera. Formazione che vince non si cambia, o quasi, solo i tocchi per Prandelli nel giorno che può coincidere con la qualificazione battendo la Slovenia. Le uniche forze fresche sono gli esterni Cassani e Balzaretti in un ruolo dispendioso, avvicendamento con Maggio e Criscito. Per il resto gli stessi azzurri che non hanno brillato con le Faroe, ai quali il CT chiede più ordine e velocità contro un avversario che coltiva qualche ambizione di classifica offrendo così spazi in più nella fase offensiva. Per attaccare la profondità Prandelli non cambia gli interpreti. Rossi, Cassano più i palleggiatori e usa la metafora del tennista che non deve avere paura del match point. Il braccino ti viene nel momento che perdi l'interpretazione della partita. Se tu conosci il tuo canovaccio, conosci quello che devi fare nelle due fasi, allora secondo me il braccino non ti viene. Composta la nazionale titolare c'è affollamento di punte per la panchina. Giovinco, Pazzini, Girardino e Balotelli. Super Mario potrebbe anche finire in tribuna e comunque per ora è ai margini del progetto tecnico. Ma di lui si parla più degli altri, potenza del personaggio che va spesso sopra le righe con qualche atteggiamento semplicemente indolente che però non lo aiuta. È stimato sicuramente ma deve fare un passettino per essere anche rispettato. e per essere rispettato tu devi avere dei comportamenti veramente da persona responsabile. E lui lo è. Forse probabilmente il fatto di tenere tutto dentro, di soffrire dentro di lui tante volte può portare a chi lo guarda, a chi lo osserva, a qualcosa di particolare strano. La vigilia di Balotelli è stata piena di umanità. La sua visita in carcere di Sollicciano con il CT e Buffon è stato un momento coinvolgente, un'empatia spontanea dei detenuti che lo hanno toccato e abbracciato uscendo da ogni codice formale. Molto di più del rapporto con il campione del calcio. Rientra intanto il caso Balotelli legato all'iPad che avrebbe portato in panchina la partita contro l'Isola Farore. Speriamo che non lo faccia ovviamente anche in questa occasione. Si gioca dunque a Firenze, si giocherà venerdì per quello che riguarda il campionato. Finalmente è arrivata la firma tra Associazione Calciatori e Lega Calcio. L'astinenza da campionato dei tifosi italiani sta per finire. Dopo un anno di trattative, di scioperi annunciati, revocati e poi attuati la Serie A partirà venerdì sera con il primo anticipo della stagione Milan-Lazio a San Siro. Nel pomeriggio di ieri è arrivata infatti la firma sull'accordo tra Lega Calcio e il sindacato dei calciatori. Damiano Tomasi e Maurizio Beretta, presidenti dell'Aice e della Lega hanno sottoscritto il documento che scadrà il 30 giugno 2012, in sostanza un accordo ponte che consentirà di giocare tutto il campionato. Col nuovo accordo le società hanno ottenuto molto di quello che volevano, almeno così commenta Beretta. Secondo il sindacato si tratta invece di un punto di partenza perché il contratto collettivo che si discuterà a giugno andrà oltre nei contenuti. Una vittoria politica per il presidente della Federcalcio, Giancarlo Abete, che da subito aveva tentato di mediare tra giocatori e società. Ha aiutato anche dal fatto che dal tavolo della trattativa è stato tolto il contributo di solidarietà. Al di là del contratto si apre per il nostro calcio una stagione di vere riforme. Dopo l'incontro con tutte le componenti a Palazzo Chigi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, a nome del governo, ha parlato di una stagione riformatrice su tre grandi temi. Rivisitazione della legge 91, che regola i rapporti tra società e sportivi professionisti, e approvazione di quella degli stadi, e poi la tutela dei marchi. Riconducendo comunque tutto in capo al CONI, perché il governo vuole rispettare l'autonomia dello sport. Non gioca più invece agli US Open, la nostra Francesca Schiavone, parliamo di tennis, la corsa della Leonessa si è fermata contro la Pavlyuchenkova, continua a giocare, giocherà oggi, per un traguardo storico per una tennista italiana che non è mai, il nostro tennis femminile, non è mai approdato a una semifinale degli US Open, Flavia Pennetta. Vediamo. Ha combattuto, ha lottato e sofferto per due ore e 41 minuti. Alla fine però Francesca Schiavone è stata costretta a lasciare il passo alla russa Anastasia Pavlyuchenkova. Sfuma così la possibilità di vedere per la prima volta due azzurre ai quarti di finale di un torneo del grande slam. La Schiavone, testa in serie numero 7 degli US Open, aveva già sofferto moltissimo nel turno precedente contro la sudaficana Shepers, e solo con la sua proverbiale grinta aveva fatto suo un match difficile. Con la Pavlyuchenkova invece, nonostante il primo set conquistato, un incontro sempre in salita e la sconfitta al terzo set per 6-4. Ci vuole una continuità molto più spessa per stare prime dieci, per stare prime del mondo, per essere la migliore, per vincere un grande slam ci vuole molto, molto di più. Ma un molto di più che io ho e in questo momento non esprimo. Dunque resta solo Flavia Pennetta in corsa. La brindisina sfiderà oggi per un posto in semifinale la tedesca Kerber, 23 anni e numero 92 delle classifiche mondiali. Il pronostico è tutto in favore dell'Azzurra, che tra l'altro ha vinto l'unico precedente giocato quest'anno in Svezia sulla terra battuta. A New York si gioca sul cemento, ma Flavia ha l'incredibile occasione di entrare tra le prime quattro di un torneo del grande slam. Altri risultati negli ultimi incontri disputati. Federer ha conquistato i quarti regolando in 3-7 l'argentino a Monaco. Si prospetta una nuova sfida contro il francese Tsonga, che a sua volta ha abbattuto, faticando molto, 6-2 al quinto lo statunitense Fisch. Ha vinto la Bosniaki, numero uno del mondo in campo femminile. A proposito di campo femminile, ha abbastanza agevolmente conquistato i quarti anche Serena Williams contro la Ana Ivanovic, una sfida tra ex numero uno della classifica mondiale. Tornando in campo maschile, ma rimanendo in tema di numeri uno, Djokovic ha conquistato in 3-7 il suo quarto di finale contro Dolgopolov, talentuoso ucraino. Ha faticato molto nel primo set Djokovic, 16-14, per vincere il tie-break. E Flavia, con la notizia che l'Italia del basket è stata definitivamente eliminata dalla corsa agli europei, ti lascio la linea. Eh vabbè, ci dispiace molto per loro. Noi invece adesso la linea la diamo ad Andrea Pancani, agli ospiti di Omnibus. Si pronuncia una puntata davvero interessante. Invece per voi l'appuntamento con noi è domani mattina, sempre alle 7.30. Buona giornata. Grazie. 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 Grazie.